Oggi voglio spiegarvi i 5 motivi per cui non dovete comprare un Mac Mini con M4 Benvenuto in questo video, io sono Paoletta ed oggi voglio parlare proprio del nuovo uscito Apple Mac Mini con processore M4 Il Mac Mini è stato sin dagli albori uno dei computer più strabilianti di Apple Perché è sempre riuscito a concentrare il meglio della tecnologia di quel periodo storico all'interno di uno chassis piccolino E' vero, non soltanto Apple esiste che produce un computer così piccolo Ma tante volte, molto spesso, la controparte è sempre stata meno performante Ma oggi cambiano le cose Punto numero 1 Se ti piacciono i computer con le luci il RGB Sì, avete presente quei computer con tutto il vetro di lato pieno di LED Con le fan illuminate, colorate, le GPU con tutte le luci nel vicino Ecco, il Mac Mini è un prodotto di design molto piccolo Che è perfetto da tenere sulla scrivania E perché no, anche da nascondere perché è talmente piccolo che può essere serenamente nascosto Questo è una delle grandi motivazioni e per questo l'ho messo come prima Punto numero 2 Se pensi di accendere e spegnere il computer ogni volta che lo utilizzi E sì, perché è una delle grandi critiche che c'è da fare a questo Mac Mini L'ho sentita dire un pochino a tutti Che è il fatto che il pulsante di accensione sia posizionato sotto E quindi se sei abituato ad utilizzare il computer, ad accenderlo, utilizzarlo e poi spegnerlo Non conoscere la comodità della tastiera Apple nel caso dovessi comprarla Che puoi accendere e spegnere il computer dalla stessa tastiera Beh, allora è meglio stare alla larga dal Mac Mini M4 Piccola precisazione Penso si sia capito che queste cinque motivazioni non sono davvero vere E devo fare questa aggiunta Ma chi è che spegne un Mac? Io non li spegno da mesi Torniamo serio Allora, il terzo punto probabilmente è un pochino più vero Se si fa grafica 3D Se si compra un Mac Mini per utilizzarlo come workstation da lavoro per fare animazione 3D Grafica 3D, parliamo quindi utilizzo intensivo di GPU Ecco, questo forse è un punto un pochino più vero Non è proprio adeguato Proprio perché non ha la disponibilità di una GPU molto potente Anche se Anche se E questo anche se poi se ne potrà parlare e approfondire Punto numero 4 Se si preferisce Windows Ebbene sì, se preferisci Windows Meglio non comprare un Mac Anche se probabilmente la versione RM di Windows Girerebbe meglio su questo tipo di hardware di Apple Se preferisci Windows Allora lontana dal Mac Mini E poi come ultimo punto fondamentale direi Se vuoi un gaming PC Stai alla sala larga da un Mac Mini E anche qui c'è Io mi sono segnato un piccolo asterisco Sì e no Perché una volta avrei detto molto di più È vero, sei lontano da un Mac se vuoi giocare Oggi le barriere si stanno talmente assottigliando Che c'è una buona compatibilità di produttori Che corregge i propri giochi E cerca di farli funzionare a meglio Anche con i nuovi processori Silicon di Apple Però è anche vero che Se proprio vuoi giocare all'ultimo Call of Duty Diciamo che il Mac Mini non è la scelta migliore Perché il Mac Mini è davvero una vera rivoluzione Ma non per il gaming Infatti questi cinque punti Se non se ne fosse ancora ne so conto Erano molto goliardici Forse l'unico un pochino più serio Era quello sulla grafica 3D Però in realtà il nuovo Mac Mini È una vera strabiliante rivoluzione Questo perché In un concentrato così minuscolo Di design C'è talmente di quella potenza Da poter realmente soddisfare i requisiti Medio-alti di qualsiasi professionista Che non lavori con ambiti Dove la potenza di calcolo è richiesta Davvero sono poche le cose Che riesco a contare di più Gli ambiti dove non va bene Piuttosto che quelli dove va bene Talmente che è versatile In tutte le sue configurazioni Ovviamente non parliamo soltanto Dell'acclamato 729 euro Sul mercato italiano Della configurazione base del Mac Mini Perché è da considerare che Le sue configurazioni Che partono dal processore M4 di base Con un paio di configurazioni CPU e GPU Fino ad arrivare all'M4 Pro È stato presentato anche l'M4 Max Come processore Ma è soltanto per i nuovi MacBook Pro Che, piccola parentesi Perdono Cioè L'M4 La gamma M4 Soppianta la gamma M3 Dappertutto Quindi anche sui nuovi MacBook Pro Da oggi li comprerete Con processore M4 M4 Pro M4 Max Torniamo a parlare invece del Mac Mini Come dicevo È tanto sbalorditivo Nella sua potenza Non tanto Neanche per l'ingegnerizzazione Del processore M4 in sé Ma nel fatto che In un volume così piccolo Sono riusciti ad infilarci Anche un processore M4 Pro Che è sicuramente più grande Con molta più RAM Perché considerate che Nella configurazione con l'M4 Pro Si possono Si può arrivare fino ai 64 GB E comunque fisicamente C'è bisogno di spazio Mantenere comunque Un sistema di raffreddamento Per la maggior parte del tempo Silenzioso E ce ne vuole Insomma Diventa davvero spettacolare Se io considero che Ad oggi Su un portatile Con M3 Pro Io ci faccio compositing Di file Qualsiasi tipo di file Che mi arriva Quindi di PX XR ProRes Eccetera eccetera E ci faccio Pressoché Tutte le operazioni Di editing Postoproduzione generale Anche comprese Con versioni E color Cioè io ce li faccio Ce li facevo sull'M1 Pro Tranquillamente Li faccio tuttora E vi ripeto Che con Con l'M3 Pro Ho cominciato anche a fare Un po' di compositing Ovviamente anche Motion design Trangma serenamente Poi c'è il limite Dello schermo Del portatile Che è molto meglio Lavorare con un desktop Però Ce li faccio Giusto qualche Piccolo dettaglio Sul computer Questa non è una recensione Questo è un punto di vista Sono le mie opinioni Su questo computer Che non ho qui Tra le mie mani Ma ne ho ordinati tre Uno già Dovrebbe essere stato consegnato Al mio socio a Roma Dovrebbero arrivarne due a me Ne ho configurati due diversi Perché? Perché li reputo Davvero Un'ottima alternativa A soluzioni Come posso dire Vorrei sostituire Tutti i computer In ufficio Mi rendo conto Però che probabilmente Per certe tipologie Di lavoro Un pochino più duro Non è il caso Sostituirli Ma potrei Che non ho voglia Adesso di spendere Tutti questi soldi Anche perché Nelle sue configurazioni Un pochino più Potenti Si arriva a spendere Un bel po' Grande novità Che è stata Molto apprezzata È il taglio minimo Di RAM Sul modello Famoso Da 729 euro Quindi il modello base Che adesso È da 16 giga di RAM 8 giga Considerando sempre Che io Questi computer I Mac mini Li ho avuti Li ho fatti utilizzare In ufficio Per lavorazioni Per lavori di montaggio Sostanzialmente Con 8 giga Ci se la faceva Però davvero a stento 16 invece Cominciano ad essere Corretti Tant'è che tutti i portateli Che poi ho comprato Anche con un M1 Pro Ho messo sempre 16 giga di RAM Come minimo Adesso se non sbaglio Il mio è da 24 Però siamo lì Grande novità Addio al cavo USB Di tipo A Quindi non abbiamo più Le USB A Sul Mac mini Ma abbiamo ben 5 porte USB C Del quale 3 che sono sul posteriore Sono Thunderbolt 4 Piccola menzione Perché se invece Di scegliere il processore M4 Scegliamo il processore M4 Pro Avremo invece Di 3 Thunderbolt 4 Ben 3 Thunderbolt 5 Uno scioglilingua Che sono talmente veloci Che ad oggi Non saprei neanche Come utilizzarle Perché i coni di bottiglia Sarebbero praticamente Ovunque Parliamo di circa 120 gigabit Di trasferimento dati Non conosco al momento Sistemi ride Che ci arrivano O almeno Cioè Se abbiamo un sistema ride Così veloce Il cono di bottiglia Poi diventa La porta di rete Porta di rete Che Nella versione base In realtà dovrebbe essere configurabile Su tutti i modelli E da un gigabit Mentre è configurabile La porta da 10 gigabit Questa grande rivoluzione Perché rende Questo processore Questo computer Perfetto per esempio In uno studio Come il nostro Dove abbiamo Tutta la rete 10 gigabit E sui computer Non ci sono file Perché Gli operatori Lavorano da computer Direttamente sui server I file non si muovono Dai server Sostanzialmente È proprio perché La rete è abbastanza veloce Da poter permettere Questa gestione Quindi Probabilmente Con i thunderbolt Con le porte thunderbolt Di tipo 5 Quello che possiamo fare È andare a montare Tramite hub Che ad oggi Non esistono ancora Molti schermi Collegati allo stesso computer Cosa che noi abbiamo Supposto e immaginato Infatti Uno di questi computer L'abbiamo preso Proprio per questa Specifica evenienza Per una parte Del nostro lavoro Che un giorno Vi racconterò Insomma Perché non dovreste Comprare un mac Mini M4 Se fate Se siete fotografi Montatori Videomaker Filmmaker Editor Perché non dovreste Comprarlo In realtà Non ci sono motivazioni A meno che Voi non facciate Effetti visivi Molto complessi Non gestiate Film girati In Harry Roma Quando parlo Di gestire Significa gestire 30-40 tera E anche lì Probabilmente Proverei a fare Tutte le conversioni Con un mac mini Ovviamente la color Di un progetto Del genere Ha bisogno Di molta più RAM Come lavori Di compositing Molto avanzati Hanno bisogno Di tanta RAM Però in realtà Configurando una macchina 64 giga Di RAM Io ho il pensierino Di poterci lavorare Di sostituire Le mie workstation Ce lo posso anche fare Nota di colore Leggevo dei benchmark Un pochino online E sembra che L'M4 Max In questo momento D'appannaggio Soltanto del MacBook Pro Da 14-16 pollici Sia addirittura Più performante Dell'M2 Ultra Montato sui attuali Mac Studio Che sono tuttora La line up Più potente Di Apple Per il Mac Studio Mi aspettavo Un aggiornamento Già l'anno scorso Con l'M3 Sono contento Che non ci sia stato Perché Questi Mac Studio Sono macchine Che secondo me Devono Avere un ciclo di vita Un pochino più lungo Perché hanno un costo Davvero più importante Sono comunque Molto potenti Tuttora Io possiedo Un M1 Ultra E un M2 Ultra E sono soddisfatto Di entrambi Ancora dell'M1 Ultra Insomma Cos'altro dirvi Se siete curiosi Volete una recensione Più approfondita In realtà esistono già Ce ne sono già tanti online Potete tranquillamente Andare a cercarle Altrove Ma se volete Una mia recensione Scrivetemelo E io la preparerò Con estrema Un'estrema precisione Come è il mio solito fare Fatemelo sapere Ovviamente Scrivendomi In questo settore Nei commenti Oppure Andando a cercarmi Su Instagram Beh Cos'altro dire Io vi ringrazio Per essere arrivati Fino a questo punto Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video